Il violino per me è come un collegamento, è come la mia anima che è qui, è qui e il suono è proprio amore. Sono un figlio d'arte, mio papà è un chitarrista, ho iniziato con lui a suonare per strada quando avevo 9 anni e da lì è partito tutto. Vorrei essere paragonabile a lui un giorno. Quando ho il violino in mano ho come un superpotere in più. Esibirmi qua su questo palco è stata un'emozione mai provata, sinceramente. Mio padre è venuto qua a vedermi e quando l'ho visto dentro ero tutto lacrime, tutta la mia vita. Praticamente l'ho fatta suonando con lui. È stata una bella sorpresa. Se riesco a vincere per la mia famiglia, per tutto, sarà un'emozione grandissima. Vediamo come andrà.